Salve a tutti, in questo video vedremo come comprare su ebay Allora, per comprare su ebay è necessario innanzitutto fare passaggi che vi ho fatto vedere in altri video A parte creare l'account, dopo creare un account Paypal e ebay Collegare la carta a Paypal Oppure il conto corrente, come vi ho già fatto vedere in altri video E poi collegare Paypal a ebay, come vi ho fatto vedere in un altro video Dopodiché siete pronti per acquistare su ebay Allora, quindi cercate, qui c'è la vetrina, vi sono proposti alcuni oggetti Oppure cercate da voi l'oggetto che volete acquistare Quindi mettiamo, volete acquistare pellicole per iphone Quindi scrivete pellicole iphone 6 Vedete Quindi vi vengono fuori tutte le inserzioni sulle pellicole dell'iphone Voi guardate un po' Quindi poi in un altro video vi farò vedere come acquistare in sicurezza su ebay Guardando i feedback e guardando altre cose Oggi vi faccio vedere come comprare su ebay Dopodiché qui a sinistra Potete spuntare alcune categorie Quindi potete mettere O all'asta, qui c'è l'asta, compralo subito La differenza tra asta Che in un determinato tempo Voi fate l'asta su un oggetto Chi fa l'offerta più alta sta giudicando l'oggetto Mentre a compralo subito potete acquistarlo immediatamente Queste sono tutte a compralo subito come vedete Qui c'è scritto compralo subito Però se voi spuntate l'opzione asta Vi appaiono come vedete le aste Quindi dove potete fare l'asta Fate l'offerta Quindi qui rimane 3 giorni e 2 ore allo scadere dell'asta Fate un'offerta Quindi entrate qui dentro Qui mettete 2 euro per esempio Metti fai offerta Non so se 2 euro me le prende Minimo superiore Quindi puoi fare offerte Devi fare un'offerta Minimo 2 euro e 49 Oppure superiore Quindi se io metto 3 euro Lui Mi prende l'offerta automatica Però mi metterà Questa offerta qui Però se fanno un rilancio Io sono fino a 3 euro L'oggetto è mio Quindi rilancio fino a 3 euro Quindi posso fare Imposta offerta automatica E come vedete Ora la migliore offerta È la mia E qui ho fatto un'offerta Come si aggiorna La seconda offerta migliore È la mia Quindi Finché non superano i 3 euro L'oggetto Me lo aggiudico io Ok E qui ci siamo Oppure posso acquistare A comprare su Quindi allo scadere Poi io mi aggiudicherò L'oggetto Se vado in riepilogo Ci dovrebbe essere L'oggetto Infatti Se vado in riepilogo C'è l'oggetto Qui Che ho Dove ho fatto L'offerta Invece se voglio acquistare Un oggetto Comprolo subito Entro sull'oggetto Dopo di che Dopo di che Faccio Comprolo subito Come vedete C'è acquista Lo scelto con l'acquisto Posso pagarlo subito Oppure Non pagarlo più tardi In caso Pago subito Lui mi rimanda A A Paypal Mi rimanda A Paypal Per Per pagare subito Altrimenti Se Non pago subito Poi ritorno Sul mio ebay E se scorro giù Come vedete Posso andare Su paga Paga subito E Come vedete Qui mi offre Le opzioni Di spedizione Se voglio Una raccomandata Per posta normale Mi arriva Alla spedizione Gratuita Mentre per posta Raccomandata 4,99 Per posta Con un altro Corriere 6,99 Dopo di che Seleziono Il modo di pagamento Quindi se voglio Pagare con la carta Di credito Quindi qui Dipende anche Dal Dal Debitore Come Ha impostato Dal venditore Come ha impostato I metodi di pagamento Oppure Posso scegliere Paypal In questo caso Lui Mi rimanda A Paypal Io Immetto Password La password Del mio Account Paypal Quindi accedo Faccio l'accesso Dopo che ha fatto L'accesso Faccio Conferma E paga E l'oggetto A quel punto È pagato Quindi l'oggetto Come vedete A questo punto È stato pagato Mi arriverà a casa Senza che io Devo fare altro All'indirizzo Che io Ho Inserito In questo caso Questo Che ho Oscurato Per motivi Di privacy Quindi a questo punto Io non devo fare altro Ad aspettare solo Che mi arrivi L'oggetto A casa E Spero di essere Stato chiaro Con questo video Di avervi fatto vedere Come si acquista Su ebay Se ci fossero domande Scrivete in descrizione Comunque per questo video è tutto E alla prossima